In questo pomeriggio le luci del palazzetto di Via Fersina a Trento torneranno ad accendersi per il playoff scudetto della Palavolo Maschile, reduce dalla splendida vittoria su Perugia nella semifinale Champions di cui stiamo. Vedendo le immagini, Itas Trentino affronta un'altra sfida da dentro o fuori contro Piacenza, si gioca gara 3 dei quarti di finale. Appuntamento alle 18.30 alla BLM Group Arena, diretta TV su RaiSport.